È da tempo che il Cilento necessita dell'attenzione infrastrutturale nazionale per fare un ulteriore passo in avanti, se non salto, verso il miglioramento della qualità della vita dei residenti in prima istanza, ma allo stesso tempo per dare ulteriore slancio alla crescita turistica del territorio. La provincia di Salerno e quindi il Cilento sarà interessata nei prossimi anni da investimenti anche in infrastrutture ferroviarie grazie al Recovery Plan, ovvero potenziamento tecnologico e interventi infrastrutturali sull'intera linea Salerno-Reggio Calabria. Chiaramente è un'opportunità vitale per l'intero territorio che oggi già è percorso da treni ad alta velocità, ma che non possono superare i 180 dei 200 chilometri orari per limitazioni tecniche e tecnologiche. Per tale motivo si vede di maggiore facilità l'adeguamento di quanto già esistente, piuttosto che uno sforzo lungo, presumibile più di 16 anni, per realizzare qualcosa che prevederà anche il mancato rispetto delle caratteristiche che rappresentano il territorio, ovvero sostenibilità e rispetto dell'ambiente. Questo perché sono previste nel progetto presentato dal commissario anche nuove gallerie sul tratto Baronissi Sapri, che molto probabilmente risulterebbero una devastazione per sorgenti fiumi sotterranei, biodiversità per il quale il parco vanta riconoscimento internazionale. Naturalmente qui non deve nascere nessun gioco di parte tra il Cilento e Vallo di Diano, entrambi i territori del parco nazionale e pertanto a nostro avviso il progetto non può essere invasivo, con nuove rotaie e nuove perforazioni di montagne, bensì deve essere in scia ai lavori in itinere e a quanto già esistente. Ciò che va fatto è dare vita a nuovi collegamenti tra le diverse aree del parco laddove manchino e rafforzare gli esistenti. E questo dovrà accadere per gestire anche turisticamente al meglio il Diano, il Cilento e gli Alburni, ovvero sia guardando al futuro dando forza al percorso e non penalizzandolo. Le soluzioni del caso non possono estromettere gli imprenditori, ovvero l'anima economica di un settore che sta crescendo e sviluppandosi dando lustro internazionale al territorio e alla sua identità e per tale motivo chiediamo di essere coinvolti ai tavoli tecnici locali, regionali e nazionali, al fine di portare la visione imprenditoriale di un territorio che vuole guardare al futuro costruendolo e non solo subendolo. E questa è la nota stampa della cooperativa Vivi Cilento presieduta da Emanuele Ruocco.